Dal mese di marzo e per circa un anno il Palazzo delle Arti di Napoli resterà chiuso per avviare un piano di ristrutturazione che renderà quegli spazi sede del Museo dell'Immagine. Fotografia, cinema, arte digitale, ma anche pittura e scultura che dialogano con i nuovi media, il nuovo PAN sarà un luogo immersivo pronto ad ospitare mostre ed installazioni dei grandi artisti nel solco del programma Napoli Contemporanea, voluto dal sindaco Gaetano Manfredi e curato da Vincenzo Trione. L'obiettivo è quello, da un lato, di immaginare un museo che sia in dialogo con l'offerta museale esistente in città, dunque con Capoliponte, con il Museo archeologico, con il Madre, con Galleria d'Italia. Con le sale dedicate alle opere d'arte nel Museo dell'Immagine ci sarà anche una stanza per i lavori di arte digitale, non solo un luogo espositivo, ma un centro di ricerca sulle nuove frontiere del panorama visuale, dotato di un impianto illuminotecnico e di un livello di sicurezza adeguato agli standard dei grandi musei internazionali. Un progetto che guarda la storia del Palazzo, quindi c'è un discorso del rapporto con la città, c'è un discorso sulla dimensione pubblica, c'è un discorso sull'esperienza del visitatore, c'è un discorso sulla sicurezza. Durante la pausa delle attività il pan resterà fruibile ai visitatori attraverso una piattaforma immersiva tridimensionale che consentirà attraverso l'utilizzo di un avatar di immergersi nell'universo delle immagini. Si chiama Metapan ed è il nuovo progetto digitale che contribuisce ad arricchire l'offerta museale cittadina. È uno spazio dove gli artisti dell'arte digitale potranno sperimentare nuovi linguaggi, gli artisti dell'arte contemporanea si misureranno anche con i linguaggi digitali e il pubblico potrà entrare dentro questo gemello digitale del pan futuro entrando, sperimentando, scoprendo linguaggi ibridi, creandosi una propria esperienza di quella che è attualmente l'arte contemporanea. Questa stanza non verrà chiusa nel momento in cui il pan riaprirà i battenti ma sarà uno spazio che rimarrà costantemente attivo. Alla programmazione del pan segue quella della casina pompeiana che si propone come la nuova casa della performatività contemporanea. Questo rientra poi in una programmazione più ampia di riqualificazione di tutti i siti culturali del comune che stanno partendo in questi mesi e che vedranno entro la fine del 25 la riqualificazione di tutti i siti. Il Maschio Angioino, Castel del Lovo, gli interventi che noi facciamo all'annunziata, quindi tutta una serie di siti che poi verranno ridati alla città per rafforzare sempre di più l'offerta culturale della città che è una delle grandi attrazioni anche per il flusso turistico che noi stiamo avendo.